10 dicembre 2023. Aldo racconta, sì Aldo racconta, dopo aver fatto vedere la camera, sono qua sempre a primo piano nel mio studio letterario della grotta, della caverna in cui questo habitat è situato. Sì ma c'è una porta, io sono un po' preoccupato oggi veramente, penso che la mia gallina non faccia le uova perché ha freddo, ha freddo, ma come faccio a mangiare, ma come faccio a mangiare? Ma non sento niente, non sento niente, nessun verso del gallo, della gallina, mi preoccupo, se vado fu... ma ecco che vengono vicino alla porta, volevo andare fuori, poi si spaventavano, mi hanno annunciato che hanno fatto l'uovo, sono contento, sono contento, oggi ho da mangiare due uova, qui, qui, adesso pian pianino vado a prendere questo, speriamo che siano più di due uova, oggi ho da mangiare, ho voluto scegliere la mia vita da povertà, poi vado a vedere la mucca, a mungere il latte, adesso sono lieto, ma come mai le hanno fatte le ore undici, le uova? Eh, sono andate, sono andate, sono andate, adesso devo stare molto, molto tento a scendere a piano terra, qui di non cadere, e occhio, occhio dove metto i piedi, qua, perché è un tunnel, solo in una grotta, dove posso picchiare la testa, è molto, molto pericoloso, se cado giù, se cado giù, sono qua da solo, poi non va neanche lo smartphone, il citofono, perché qui non prende internet, c'è un segnale di abbassare la testa, ecco, 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 che mi abbasso, riesco a mantenere l'equilibrio, aldo, aldo, in difficoltà, per andare in cucina, e per andare al piano sotto della grotta, sono veramente in difficoltà, veramente, 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 è la mia vita che ho voluto scegliere per essere povero, per apprezzare la vita ancora di più, ecco, 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 che sono arrivato, sono arrivato, sono arrivato, sono arrivato al mio piano inferiore, la porticina che poi tra mezz'ora esco, ci sono i vetri impannati, ci sono i vetri impannati e voglio scrivere sul vetro amo la vita, amo, 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 amo la vita, sì, questa è la mia vita, questa è la mia vita da remita, qui in una grotta, ma guardate che bello, oggi è nato ancora, un altro giorno, è Natale per me, ogni giorno è Natale, in questa grotta, io amo essere qua. sono sceso da quella scala, perpendicolarmente al 70%, non sono caduto, e qua è la mia piccola cucina, che poi faccio due uova sode al tegamino, ma qui sto veramente bene, ad ammirare questi muri di una volta, ma guardate, guardate, guardate i muri, la grotta, questa costruzione, questo appartamento è stato fatto all'interno di una montagna di capo di ponte, rupestre, l'arte rupestre, e io sono qua, lieto di esistere, Aldo, Aldo.